Sì, nonno Mufasa, la stagione secca è appena cominciata e la guardia del leone è impegnata più che mai. Sì, sembra che tutti abbiano bisogno del nostro aiuto, come facevano prima senza di noi, non sono capace di cavarsela da soli. Sì, sì, suppongo di sì. La guardia del leone ha fatto uno splendido lavoro nel proteggere le terre del branco durante la stagione delle piogge, ma la stagione secca comporterà ulteriori e più grandi sfide. Lo so, lo so, c'è penuria di cibo e di acqua e il caldo distrugge proprio tutti, tutti. E sai che cosa succede quando gli animali sono stanchi, soffrono fame, sete e... Che non sempre prendono le decisioni migliori. La stagione secca ha reso anche me un po' impulsivo. Lo so, farò attenzione a non perdere il controllo del rugito. Oh! Ti ringrazio, nonno. Stavi parlando con tuo nando Mufasa, non è vero? Cosa? Come hai fatto? Chi sei tu? Sono McKinney, la nuova apprendista di Rafiki. Chi? La nuova apprendista di Rafiki? Oh, beh, questo spiega... Sì, sono io. Un giorno sarò Maggiusi Reale, custodio del sapere delle terre del branco come lui. È così emozionante. Rafiki dice che se sto in silenzio potrò sentire i leoni del passato come lui. Ma non li ho ancora sentiti, ho sentiti, ho sentito soltanto te. Riesci a crederci? Io non riesco a crederci. Ah, è come se ci credo. Del resto è una cosa che ho imparato solo ieri. Pazzesco come riesci a parlare con Mufasa. Parlare con Mufasa? Ma chi? Ma chi? Sshh, sshh. Rafiki non fa sapere in giro che può parlare con i leoni del passato. Se tutti sapessero le cose che può fare Rafiki, nessuno qui lo lascerebbe più in pace. Ah, sì. Anch'io parlo con Mufasa solo quando ho proprio bisogno del suo consiglio. Sì. Ecco perché Kion riesce sempre ad avere la meglio sulle iene, grazie ai consigli del leone più saggio che sia mai esistito. A proposito di Rafiki, stavo giusto andando al suo albero, perché oggi, sai, è il mio grande giorno. Che felicità, sapere già che sarà certamente un giorno importante. Kion! Kion! Me? Le iene sono tornate! Nate! Cosa? Non dirmi che hanno attaccato di nuovo gli elefanti. Ehm, no, non proprio, adesso ce l'hanno con i bambuini che si sono uniti al branco degli elefanti. Ho capito. Avverti gli altri della guardia. È stata la prima cosa che ho fatto. Stanno già andando là. Stanno già andando là. Allora andiamo. È stato un piacere, Makini. Auguri con l'apprendistato. Grazie Kion!